Salve a tutti bella gente e benvenuti in questo nuovo video, video nel quale come avete visto dal titolo siamo qui per modificare il KTM Duke 890R Ebbene sì è arrivato il momento di fargli anche qualche modifica perché soprattutto certe cose vanno modificate e altre cose che vanno integrate diciamo Quindi direi di partire con il copristrumentazione, adesso io qui ho tutto, vedete tutto qui dietro Partiamo con il primo pezzo, copristrumentazione, che vedremo anche come si monta C'è una vite qui davanti a stella che andremo a svitare e ci andremo a inserire questa Praticamente questo pezzo qui va a finire così, qua sopra e copre la strumentazione Solo che purtroppo online non ho trovato video né del montaggio e per trovare questo pezzo qui ho fatto leggermente fatica Perché trovavo pezzi aftermarket fatti veramente male Direi adesso di farci dare una mano dal cameraman col tenere i pezzi Prego cameraman Piccola cosa negativa è che con il pezzo mi è arrivata una vite bianca si può dire Acciaio inox deduco sia E invece quella che c'è presente dietro la strumentazione è completamente nera Adesso vediamo se si riesce a rimontare di nuovo questa originale KTM Purtroppo la vite originale non ci va perché è troppo piccolo qui lo spazietto per mettercela e quella c'ha la testa troppo larga Quindi toccherà metterci questa aftermarket Adesso vediamo di inserirla Ok e questo sembra che ci vada alla grandissima Pezzo completamente montato direi che fa la sua porca figura Guardate che bella figura che fa adesso Adesso passiamo all'altro pezzo succoso Stiamo parlando del porta targa light che come potete vedere Pezzo che mi è costato più di tutti ragazzi Un piccolo pezzo in plastica misto a carbonio misto a qualche altro composito per alleggerirlo Mi è costato tanto Veramente tanto Più del doppio di quel pezzo di plastica che ho montato sopra la strumentazione Direi di fare un piccolo unboxing Ci appoggiamo direttamente sulla moto La scatola si presenta in questo modo qui Dove dentro troviamo il porta targa E tutti i vari altri pezzi che ci sono Questi qui che già qualcosina io ho già assemblato diciamo Adesso però vi faccio vedere tutti i vari passaggi da poter seguire per montarlo Anche perché su internet non ho trovato video dove spiegano come si montano Quindi direi adesso di mettervi lì da parte e di assemblare il tutto Oh Grazie a tutti. 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 Abbiamo finito di montare il portatarga tutto quanto, adesso bisogna stringere le varie viti, bisogna fare le varie regolazioni e poi rimontarlo. Nel mentre direi di approcciarci a smontare questo portatarga qui e le frecce, perché io rimetto le frecce originali, siccome mi piacciono parecchio, tengo quelle originali. Adesso smontiamo completamente il portatarga originale. Abbiamo completamente svitato il portatarga e adesso levate il secondo sellino, ci sono delle prese libere, le luci e adesso staccate questo connettore, c'ha la linguetta, lo staccate e poi qua sotto c'è un gommino, che adesso non so se vedete, dopo ve lo faccio vedere da sotto, vedete il portatarga. Ora, staccate anche quel gommino lì, abbiamo smontato il portatarga, adesso abbiamo levato tutte le viti e direi di dividerlo. Non so come si faccia assolutamente, tanto so che è incastrato, c'è dei incastri qui in centro, perché tanto gli abbiamo levato tutte le viti, altro non ci dovrebbe essere. Adesso non rimane che smontare le frecce e rimontarle sul nuovo portatarga. Piccolo intoppo, il portatarga l'abbiamo completamente sistemato e solo da montare sulla moto, gli mancano gli adattatori qui per le frecce originale e per poterlo attaccare al pezzo originale, che sono questi qui. E a quanto pare questi non vi vengono forniti, mi raccomando se comprate i portatarga assicuratevi che siano completi di tutto. Detto ciò niente, noi abbiamo fatto passare il ring questo qui per la protezione dell'acqua qua, l'abbiamo messo, abbiamo fatto passare tutti i cavi qui dentro e adesso rimonteremo il portatarga rimettendo i cavi tutti qui dentro e facendoli uscire tutti qui dentro. Abbiamo installato tutto, portatarga, catadiotro, luce, frecce e abbiamo collegato anche le frecce e funzionano perfettamente. L'unico problema è che per attaccare la luce posteriore ci sono questi tre cavi e bisogna attaccarli da questa parte qui. Non vanno minimamente d'accordo, quindi adesso mio fratello proverà a staccarli tutti e ad attaccarli sia questi che sono la luce targa che questi per il faro posteriore. Se funziona vi spiego anche come abbiamo fatto. Siamo riusciti a riattaccare tutto completamente e guardate un po' come abbiamo fatto. Vi metto la foto in sovraimpressione. Comunque il cavo giallo è stato attaccato insieme al rosso, il cavo verde è stato attaccato insieme al cavo nero e adesso funziona tutto benissimo. Se comprate il portatarga lightech fate attenzione perché non è compreso degli attacchi. Comunque dovete smanettare e adattarli voi comunque. Se non siete proprio pratici fatelo fare a qualcuno un po' più pratico, evitare di fare danni. Proviamo insieme se funziona tutto. Accendiamo, è tutto collegato, sì tutto collegato. Adesso proviamo, freccia destra funziona, freccia sinistra funziona, il faro come potete vedere funziona, la luce portatarga vedete funziona e poi se premiamo il freno, il freno c'è e anche col pedale del piede. Quindi direi che per adesso il lavoro è finito, portatarga montato, continuiamo con le modifiche. È passata una settimana da quando abbiamo fatto quelle modifiche che avete appena visto. Io settimana scorsa mi sono andato a fare un giretto e visto che non avevo stretto bene il catadiotro, adesso il catadiotro non c'è più. E poi un'altra cosa che non capisco come mai sia successo, ho graffiato completamente lo schermo. Proprio in questo momento, mentre stavo cercando di dargli un po' una pulita, adesso vedo come sistemare la cosa, visto che è un bel casino. Vi faccio vedere due cose. Questi adesivi qui, che qualcuno di voi se mi seguite su Instagram l'avete già visti, l'ho messi molto prima di fare questo video qui, perché mi servono. Quando freno mi servono per fare grip e poi ho messo i notolini, alza cavalletto sulla moto, che anche questi ho messo molto prima di fare questo video qui, per poter alzare la moto sul cavalletto. Le altre due modifiche sono la protezione qui del serbatoio e la protezione dello schermo. Siamo riusciti a montare la pellicola, non si vede nemmeno che c'è o meno, sembra che non ci siano nemmeno i graffi che vi ho fatto vedere prima. Adesso non resta solo che testarlo e vedere dopo sotto la luce, sotto le varie condizioni e altro. E così comunque non si vedono niente e non si vede tutto bene lo schermo. Vi devo dire che mi piace come è venuto. Queste, come avete visto, sono state le prime modifiche del KTM. Sono appena cominciate le modifiche, sto già ordinando altri pezzi perché comunque le modifiche non possono fermarsi qui e bisogna passare anche un po' oltre diciamo un po' al sound, nient'altro. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi ai vostri KTM che modifiche avete fatto, se avete comprato lo stesso portatarga, se avete dovuto fare lo stesso accrocchio che ho fatto io qui sotto per fare i vari collegamenti. Grazie di aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate e arrivederci al prossimo video.